Papa Francesco, in latino Franciscus pagine, in spagnolo Francisco, nato Orge Mario Bergoglio. Dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato, della città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. A fine udienza generale Francesco ricorda i sette cooperanti della ONG World Central alchice morti sotto i colpi di un drone israeliano. Quindi rilancia l'appello per un cessate il fuoco nella striscia. Si eviti ogni irresponsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione. Poi mostra un rosario e un nuovo testamento appartenuti ad Oleksandr. Soldato ucraino morto a 23 anni, facciamo silenzio, pensando a lui e a tanti altri giovani. La guerra distrugge. Francesco fa due volte un respiro profondo. Mentre con gli occhi socchiusi guarda la folla di 25.000 fedeli in piazza San Pietro per l'udienza generale. Stringe le labbra prima di parlare. Come a trattenere la commozione. Poi, abbassato lo sguardo verso il foglio passato gli poco prima dal suo collaboratore. Scandisce. Purtroppo continuano a giungere tristi notizie dal Medio Oriente. La voce è tremante.